Dotata di un bell'aspetto. Nel 1949 entra casualmente nel mondo del cinema notata da Luciano Emmer. Che la sceglie per interpretare la parte di Luciana in domenica di agosto. Grazie a questo ruolo, da lei interpretato straordinariamente, gira nello stesso periodo due film d'avventura accanto a Vittorio Gasman. Suo compagno nella vita e sul palcoscenico. Lo sparviero del Nilo di Giacomo Gentilomo e il leone di Amalfi di Pietro Francisci. Dopo aver lavorato nella rivista a fianco di Ugo Tognazzi camballerina. L'alissia cresciterà a teatro ancora accanto a Gasman in Pergin, 1950, e in Detective Story, 1951, per la regia di Squarzina. Contemporaneamente si dedica al cinema. Che purtroppo non le dà più occasioni di mettere in luce il suo talento. Depressa poi dalla rottura del suo legame sentimentale con Gasman. Nel 1952 sposa Franco Castellani e pian piano si allontana sia dalle scene che dallo schermo. Salvo modeste apparizioni nei primi anni 60.